Sì, ovviamente intanto per ribadire il nostro no secco alla violenza sulle donne. Noi abbiamo sempre comunque ritenuto indispensabile evidenziare ed esaltare la donna tutti i giorni dell'anno e soprattutto per chi fa politica come noi ha sempre tentato di valorizzare le donne che abbiamo sempre comunque ritenuto molto intelligenti per la vita del nostro Paese valorizzando dal punto di vista istituzionale e politico. Tant'è vero che Forza Italia oggi vanta un parterre di donne di grande qualità e di grande impegno sociale e politico che stanno riscontrando un grande successo all'interno del nostro partito e quindi chiaramente in tutte le istituzioni dove sono chiamate a governare i vari processi. Quindi questo simbolo che voi vedete sul nostro volto è per ribadire ancora una volta con forza un no alla violenza sulle donne proprio il giorno in cui celebriamo la giornata contro la violenza sulle donne. E contestualmente abbiamo accolto quello che è stato l'appello, l'invito e lo stimolo del Presidente Berlusconi ad organizzare delle conferenze stampa sui territori dove evidenziamo lo sciacallaggio, il dilettantismo di un governo nazionale giallo-verde che si appresta ad approvare una manovra economica assolutamente sbagliata, inopportuna, che non guarda all'interesse e ai veri bisogni dei cittadini italiani ma che mira puntualmente a tentare di dare risposta a quelli che sono stati gli slogan durante la campagna elettorale ossia ad esempio il reddito di cittadinanza che prende una buona parte di questa manovra e che destinerà oltre 9 miliardi di euro ad una platea a mio avviso molto ristretta quindi ritengo che sarà una platea che beneficerà molto ristretta rispetto al reddito di cittadinanza che fa aumentare certamente il debito pubblico ma non è questo che ci preoccupa ma ci preoccupa che il debito pubblico che chiaramente sarà aumentato non abbasserà le tasse non ovviamente aumenterà gli investimenti, anzi fa tremare i mercati fa tremare i tanti investitori che in questo momento si sono assolutamente fermati e chiaramente creerà ancora di più precariato rispetto a quello che registriamo già oggi nel nostro paese perché non mira assolutamente a sanare quelle forme di precariato che negli anni purtroppo nel nostro paese si sono oramai consolidate. Ecco Forza Italia rispetto a questo oltre che criticare puntualmente questa manovra oltre ad esaltarne le difficoltà oltre ad alimentare quello che è l'armismo che registriamo in tutte le associazioni di categoria, in tutte le forme sindacali del nostro paese addirittura gli organi chiaramente indipendenti come la Banca d'Italia, l'ufficio del bilancio sono seriamente preoccupati rispetto a questa manovra e allora dicevo Forza Italia non può non esaltarne ed alimentare l'allarmismo perché è giusto che il paese conosca bene chi sta governando il paese e cosa sta facendo in questa manovra di bilancio ma ritenta anche di attraverso un'attività emendativa di poter inserire quelle che sono le questioni non solo territoriali ma anche nazionali in maniera intelligente, in maniera puntuale confidando in quelle che sarà magari anche un senso di responsabilità che prima o poi potrà e dovrà emergere rispetto a coloro i quali avranno responsabilità di governo e hanno attualmente responsabilità di governo l'emendamento sull'aeroporto dello stretto sul nostro di Dominiti che certamente merita un'attenzione come fino adesso non c'è stata grande merito all'attuale Presidente della Sagala che devo dire per amore di verità in maniera autonoma sta svolgendo un lavoro veramente eccezionale perché ha riorganizzato l'aeroporto lo sta facendo con nuove tratte lo sta facendo con un approccio intelligente pacato, sereno con Alitalia ma non solo con Alitalia ma anche con altre compagnie che da qui ai prossimi mesi arriveranno a Reggio Calabria certo è che questa infrastruttura ha la necessità di riorganizzarsi anche strutturalmente parlando per rendersi ancora più appetibile, più affascinante più apprezzabile rispetto a tante altre compagnie che vorranno guardare con interesse a questa infrastruttura che io ritengo e non solo io riteniamo essere assolutamente strategica per la Calabria per la Sicilia e per tutto il meridione d'Italia e allora qui al Governo abbiamo chiesto attraverso l'emendamento che porta la mia firma diciamo un'attenzione economica affinché questa ristrutturazione di questo intervento infrastrutturale possa essere fatta ecco se mai dovesse succedere sarebbe la prima volta che un Governo nazionale che un Governo si possa interessare in maniera diciamo concreta a questa che è una infrastruttura che purtroppo negli anni ha subito un declino quasi diciamo la chiusura dell'aeroporto e che se mai dovesse essere approvato e quindi supportato dal Governo il mio emendamento ecco possiamo certamente perché no anche dire che scongiuriamo un'eventuale chiusura anzi creeremo le condizioni affinché questa infrastruttura possa finalmente guardare diciamo ad un futuro più rosio ad una diciamo sviluppo non solo dell'aeroporto ma di tutto quello che una infrastruttura strategica come l'aeroporto dello stretto può chiaramente poi generare ecco io sono abbastanza fiducioso è un'iniziativa la sua che vede l'apprezzamento anche del Presidente di Sagal sì ma sono io che ringrazio il Presidente di Sagal per il lavoro egregio che sta facendo e noi come classe politica al di là dei partiti al di là delle posizioni politiche dobbiamo supportare stare a fianco a uomini e donne che governano determinati processi oggi parliamo dell'aeroporto e quindi merito al Presidente De Felice che certamente ringrazio e lo ringrazio anche per aver apprezzato questa attività parlamentare mi auguro di poterlo ringraziare ancora una volta nel momento in cui la sinergia ecco la trasformiamo in atti concreti perché possiamo a gran voce dire che l'aeroporto di Reggio Calabria è salvo ma non è solo salvo ma che si proietterà anche grazie a questi interventi economici ad un panorama non solo italiano ma anche europeo anche estero ecco il mio sogno il sogno dei reggini è vedere il proprio aeroporto che vola tra virgolette così come possono chiaramente tutte le infrastrutture del nostro paese sognare di vedere la propria città la propria regione veicolarsi e diciamo immaginare un collegamento voglio dire anche perché no internazionale che